Grazie Presidente, sarò rapidissimo soltanto per ripetere quello che avevo detto durante l'illustrazione alla quale magari non eravamo tutti presenti. Questa è una delibera che naturalmente approviamo al termine di questa consigliatura e quindi sarà uno strumento a nostro avviso utile per chi avrà l'onore e l'onere di andare a governare la città nei prossimi anni e appunto è una possibilità in più per aiutare gli impianti sportivi comunali alle condizioni che sono state ben precisate sulla base degli emendamenti quindi ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia per aver proposto l'emendamento e appunto le condizioni sono sostanzialmente quando un concessionario in difficoltà come ai noi purtroppo a volte è capitato anche durante questi anni ha riconsegnato le chiavi dell'impianto e l'amministrazione non ha avuto la possibilità e comunque i tempi materiali per espletare le gare richiedono almeno due anni quindi per evitare due anni di abbandono dell'impianto si possa utilizzare la società partecipata al 100% da Roma Capitale e Zetema. Grazie.